Ueeh! Non fare la banana flambeee! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Ueeh! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDER e ragazzi, come avete visto, se lo avete visto il mio video della patch 8.20, ci sono anche i nuovi oggetti consumabili. Alle mie spalle ce n'è uno, lo voglio provare insieme a voi, perché mi sembra troppo ignorante ragazzi. Avete visto le banane, le noci di cocco, ma ragazzi c'è anche il nuovo peperoncino. Proviamolo, aumenta del 20% la velocità e aumenta di 5 punti la salute. Lo proviamo a prendere assieme ragazzi, alziamo un po' il volume e vai. 10! Gli esce il fumo dalle orecchie, gli esce! Va come corre, va come tarella, va come tarella! Aspetta un attimo! Proat! Minchia flash raga, sembra flash! Che figata! E se non sbaglio, qua ci sono le palme dove poter recuperare le noci di cocco. Vediamo se ci azzecco. Porca vacca è caduta una noce di cocco. È caduta una noce di cocco raga! Guarda che storia! Proat! Proviamo a prenderla! E la madonna! Si mangia la noce di cocco a morsi! Vabbè ragazzi, questo era un mini gameplay dei due nuovi oggetti consumabili. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel pollicione in su. Codice creator, Xiodarone. Noi ci vediamo alle 13 in live. Ciao! 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 Ciao!